Eccezionali nevicate ed eventi sismici si combinarono insieme nel gennaio del 2017, provocando il crollo del tetto della chiesa di Santa Maria Maggiore a Caramanico Terme, edificio simbolo della vita religiosa di un'intera comunità e prezioso tesoro artistico e architettonico del comune in provincia di Pescara. A quattro anni dal danneggiamento della chiesa, Santa Maria Maggiore resta ancora inagibile, nonostante un lungo e travagliato iter burocratico per l'avvio della ricostruzione definitiva dell'edificio che ha portato anche alla nascita di un comitato civico di cittadini che, esasperati, sono tornati a chiedere di velocizzare lo sblocco dei lavori, come dichiara Carlo Conti, portavoce del comitato. Sono trascorsi quattro anni da quando la chiesa di Santa Maria Maggiore, che vedete alle mie spalle, subì gravissimi danni a tetto e volta. Nel 2018 l'amministrazione comunale, grazie a uno stanziamento regionale, intervenne e fu realizzata una copertura provvisoria. Nel gennaio scorso i teli di questa copertura provvisoria sono andati parzialmente distrutti e si sta verificando un ulteriore collasso della struttura che ci preoccupa fortemente. Nel 2017, nel dicembre 2017, il CIP stanzia una somma di 1.500.000 euro per il recupero e la reattazione della struttura. A tutt'oggi registriamo uno stallo nella procedura dal momento che la soprintendenza non riesce ancora ad attivare e realizzare questi lavori. Ci siamo costituiti nel gennaio dello scorso anno come comitato e da allora abbiamo messo in atto una serie di iniziative finalizzate proprio alla realizzazione di questi lavori al fine di restituire alla comunità caramanichese la struttura di culto. Registriamo purtroppo ancora una volta lo stallo nella procedura perché se è vero che nell'ottobre scorso la soprintendenza, il segretario Atomibact, ha affidato direttamente a un architetto i lavori di progettazione definitiva ed esecutiva. A tutt'oggi però questa progettazione necessaria per la successiva indizione della gara non è stata ancora depositata. Siamo fortemente preoccupati perché non possiamo attendere ulteriormente, considerato anche che per intervenire ed eliminare questo stato di pericolo generato dalla rottura dei teli dovrà farsi carico attualmente la parrocchia e naturalmente la comunità caramanichese. E quindi siamo fortemente intenzionati a sensibilizzare e ad esporre i fatti anche all'autorità giudiziaria competente nel caso in cui entro la fine del prossimo mese non vedessimo elementi concreti.